Non trovo, non trovo R! Non trovo R! Raga, mi sa che avrò dei problemi seri con questo gioco, sapete? Buon per voi semmai No, ho fatto arrabbiare un boss, stronzo! Mamma Mamma Giulio, ho un problema Ed è abbastanza serio questo problema Mi stava per uccidere uno slime Quanto posso essere povero Vabbè, sì sicuro, sicuro che già posso fare, sicurissimo Ci ho messo 12 anni, ma ce l'ho fatta Sei disattivo? Sì, sono disattivato Era un 404 not found No, vaffanculo Vabbè No, sento un brutto suono Sì, è un brutto suono Aiuto Corri Gaffa, c'è l'emesis Questa arma è molto precisa Sembra che stai sparando un ubriaco Ma ce la faccio a trovare una stanza con la chiave Cosa minchia sono? Cosa minchia sono? Cosa minchia sono? No, 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 ero con la chiave Eh, magari posso con la chiave C'è un fantasma che mi insegue da 12 anni Comunque, madonna Sì, sì, sì Sì, sì, va bene Mi va bene Mi va bene Mi va bene Mi sono cagato in mano Mi faccio i sardi Vabbè, niente Tutti fai merda Madonna, i tavoli Io giuro che Io dico no ai tavoli Bene, adesso A parte che ho 28 dollari Cioè 28 Così d'oro Sono d'oro D'oro lì No, davvero Un'arancia Cosa minchia vuol dire? Che ho speso 21 per un'arancia, scusami 21 dollari per un'arancia Sembra una No, la descrizione è Con questa arancia Il tuo stile sarà impetuoso E la tua difesa è inspugnabile È un'arancia È una fottuta arancia Bene, comunque devo Devo farmi il tipo Oh mio dio, che boss Perché Perché c'è un M2 per correre? No, perché ho un corvo con un ca Perché? C'è un corvo Un corvo con un ca Posso? È un corvo con una mitra Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oh mio dio Ha una minigun È un corvo con una minigun ragazzi È un corvo con una minigun Voglio Ma che cosa? Non lo so cosa vuol dire, ok? È un corvo che ha una minigun Oh ! Mi ha messo in pausa da solo Vabbè, siamo in due con una minigun No, però io ho un hammer, lol No, 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 va bene Non va bene questa cosa, non va bene per nulla Mori Ok, l'ho ucciso Non ho preso nemmeno danno, ho fatto la no hit Vabbè, munizione eccelsa di primo livello, ma Che cosa cazzo è questa cosa? È una fottuta palestra Andiamo subito al secondo livello, vai Gungeon vera e prova Ah, perché quello di prima non era un gun Credo proprio che non andrà a finire bene questa cosa No, non andrà a finire bene Per nulla No, 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 no Madonna Ma non si può Senti, vaffanculo No, la vergine d'acceglio, no, la vergine d'acceglio, no Questa me la ricordo ancora One shotta Le... les arma One shotta Cioè vuol dire che io posso farmi tutto Tutte le stanze No anche lui les arma No 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 Poco mistica Perché la mia vita deve fare Vabbè Ok no no puttana No non è capito nulla tu Madonna ma les arma è OP Mi lanciano triangoli Dai ma che palle Sì vabbè ciao gore Ciao Porca troia Fuck 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 Scusami non ti ho letto il mie spaggio perché ho avuto un piccolo problema di 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 d di pistole Ti so spreage minna ho paura ho fatto una cosa preventiva è stato bellissimo eh 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 cosa sono sti cosi ok non so cosa siano fossero ma li ha battuti mi ha dato una stampella descrizione della stampella ti serve allora tiriamo fuori l'esarma cos'è questa medusa e va sott'acqua cosa è è o fa che ho credo di aver capito cosa fa a velena ho cliccato per sbaglio google non abilitatori oh vi giuro che adesso io bestemmio ma sono anche direzziati non posso sparare non mi fa sparare non mi fa sparare giulio giulio non mi fa sparare ma mi ha mi ha ucciso ma è questo boss è inguardabile ok ti spara ovunque ti spara ovunque ti giuro non si può fare applicare allora visto che io allora sono al boss del piano anche è un altro boss è un rap all'ottolus sul trono di piombo hai ragione hai palesemente ragione lo stavo pensando anche io sì 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 lo stavo pensando anch'io no ma hai ragione le Shotgun! 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 Dice! Mamma! Mamma! Oh fuck! Ti prego, muori! Ok, ce l'ho fatto. Cos'è questo? È un serpente! Perché i boss cambiano? Armacunda. Ma cosa è il secondo livello, no? Ok, ok, sto ricaricando. Andiamo di pompa, andiamo di pompa, 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 pompa! Dai, dai, dai! Ci mòrici, 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 mòrici! Oddio, metto il cuore. No, ma è... È inguardabile! È inguardabile! È inguardabile! Vi giuro, non si può giocare in questo gioco del calcio! Lo torno al desktop. Ciao, è stato bello conoscervi, addio, raga. Ciao, è stato bello!